Stavo già per dire, uccidiamo? Perché questo scrive in chat? Come to mama! Come si dice il borsone in inglese? Bag. Bag, sì. Ho bisogno di un bag. Si sente bassissimo nel gioco. Ha risposto ma non ho sentito cosa ha detto. Merda. Con la sua arma. LOL. E' anche un borsone. Medici e te borsone. Veloce. Che qua sono arrivati? Vabbè che siamo all'inizio quindi. Ma poi... E' partita la griglia qua. No, è ancora online. La vedo offline. No, no, c'è, c'è. Ah, non lo so. Eh, forse c'era qualche corpo sopra e non vedevi. Buona notizia, ho trovato l'ordigno. 140. Eh, viene a prendere tu allora. O prendo io. Eh? Quanto hai? Tanta. Cosa è meglio? Prendo io, prendi tu. Tu prendi un potenziamento e io ti prendo l'euro. Ok. Allora, me li tengo. Ce ne danno 70 o 60. 70, giusto? Ok. Allora, alla prossima non avrò più soldi. E comunque l'ho trovata qua dentro. Dove? Qui. Qua dentro l'ho trovata. A caso. Mentre voi sparavate. Oh, mitragliatrice. Dove? Presa. Era qua da dentro. Questo c'è anche nell'altra zona. Qua. Roba. Vediamo un po'. No, peccato. Niente. Hey, guarda questo! Come in, ciao! Come in, ciao! Grazie a tutti 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 Il mio povero fucile d'assalto Io ce l'ho all'uno Quasi al due Spero che non lo prenda nessuno il mio fucile d'assalto Spero Quasi farei già partire la partita Così nessuno va a prendere il mio fucile Le tattiche Spero che stavolta non resterò qua sotto Non sono equipaggiato giusto No spiegamelo non uccide niente nessuno sto coso Ah è vero direi che mi sento giusto Fa schifo al cazzo È livello 1 incredibile È livello 1 incredibile Occhio occhio bombarolo Buombarolo Eh niente Mi sa che mi fotono il fucile d'assalto Forse Forse no Non ho preso tipo 30 punti esperienza neanche Mi sa che non è il posto migliore per livellare col fucile di precisione questo Beh Se non ci metti un attimo a fare 200 kg Così ho fatto in due wave Beh c'è quell'altro tizio Questa è l'altro tizio Parito Ah E ora c'è olban Ok Fa culo Grazie rix 2 zombie e ne mancano sempre due e mori fatto livellato attacchi da mischia cavolo mi riprendo il fucile d'assalto ma vuoi il fucile di precisione ma vaffanculo di pochissimo ma c'è un toro qui non mi curare Oh, mette qui. ok ma porco 2 aiuto aiuto sono morto non ci credo mi tocca che non sono morto io ho come l'impressione che sarà meglio lasciar perdere la missione stavolta perchè sono messo a non male di più come hanno detto quell'altro ha prequisito il corpo perfetto vado a vedere se trovo ancora quel medikit vediamo se non l'ha preso nessuno e poi e poi Grazie a tutti. Un'altra Swarm è quasi a te. Swarm è arrivato nel terminal. Swarm up! Cucine antimateriale e campione di virus. Come avete fatto? Non ne ho idea, io non ho fatto nulla. Io ho solo tirato una coltellata. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Ah cazzo, siamo dall'altra parte. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Bisogna conquistare l'area. Andiamo ad aiutarlo. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Cavolo. Via. Scappa. Ah. Alla fine siamo riusciti. Restocca e patch up le linee di defensa! Non hai tanto tempo! Ti ho perso tutta la vita, aiuta. Sicuramente grazie ai nostri amici. Ah, io ne ho persa molta grazie agli zombie. Io almeno. Andiamo a cercare un medikit. Provato. Dorsoni? Eh, no, ho trovato un medikit. Dorsoni? Non ne vedo. A meno che non sia laggiù. Non vi sia laggiù. Vedi. Non gli arrivo Troppo in alto Voi ci arrivate C'è dietro Ma questo è l'eropera, sono un metro di città Beh, bene Mi curi tu? Eh, sì Voi che sei Merda Come Noi, sono qua Grit is powered This should help Thank you Merda bisogno di un caspita di borsone no ma i soldi c'eri ho solo che non vorrei sprecarli me ne basta uno serve solo per darvi una mano quando c'è da buttarsi in mezzo senza equipaggiamento ahia oh ciao comunque ti comprate i borsoni oh vado beh per ora la missione è ancora andata ancora attiva non più ah forse perché l'ho messa giù eh sì non era da fare mannaggia a te mannaggia a te nooo non ci credo ma porca proia cavolo eh non riesco a ucciderlo altrimenti muoio io è morto come è morto la spina e dire di sì una volta devo curarmi e mori mi serve un borsone mi serve un borsone come fai a non trovare borsone dovresti avere come ce l'ho io quando sono al 30 l'abilità che te li da a manetta ogni volta che uccidi uno zombie speciale cazzo vedevi merda ah ce l'ho con la mia sedia si è messo il blocco e faceva casino come siamo messi qua con la con le griglie molto bene no ce n'è una che manca no ce n'è no ce n'è una che manca no ce n'è una che manca ne no ce n'è una che manca non c'è no ce n'è una che manca stanno andando di là a cancello alcuni eeeh va bene posso buttarlo via il campione di dirus ma perchè mi sta facendo uccidere perchè li penso? eh non lo so è stato l'istinto di non lasciarlo a quell'altro xp ammo cosa sarebbero? cosa sono le xp ammo? diversi? quelle mie munizioni esposive ah giuro non capivo no e dai e questo deve essere stronzi però non posso farlo di nuovo porco dio quel porco maiale ok Sì eh oh mai ho comprato mediti di un tipo ma qui non abbiamo difesa adesso risparmia che tra un po c'è da andare a cancello e ne ho 176 è un po' di super city 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 940 due wave fa. No, una. Lo so, ma bisogna mettere le griglie qui. Altrimenti moriamo. Non finire a terra. E' quell'altro perché è da solo. Vabbè. Vediamo bene. Mio l'urlatore. E' già finita la griglia qua sotto. E' bello. Levitiamo a flyback right here. I'm reloading! E' come on. non c'è non c'è un tocco là No, lol Uh, Marykid Sono un pochino andate qua, le difese Ah, ma non l'abbiamo mai avuto, sta grigia Vabbè, a maggior parte ci stanno Questa non serve male Quale? Qua su Eh, prendo soldi allora Quanto hai? 286 Solo questo Andiamo al centro, al 20 o al 21? Non lo so Direi 21 di solito Prendiamo Prendo io Vabbè, mi ha fatto quell'altro Oh no Super city Tutto qua sotto Eh, ma che cazzo Ma io, ma io Uff Eh, dai però Sono morto Non ce la faccio Niente Devo disinfettarmi Dai, 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 dai Che culo Super city, coperti Via Eh, sono caduto Che cazzo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 Ok, ok. Occhio dietro Dai ora deve caricare Oh no devo disinfettarmi Non conquistare Eh non so se ce la facciamo Sono troppi Devo disinfettarmi Muoio No dai ho finito ora le munizioni Aiuto Uno da solo con una pistolina Niente aria Peccato Almeno sono sopravvissuti Prima per poco Andiamo a Sistema adicuata il gate No fermati Ah niente Come non ho detto Abbiamo solo pochi secondi ancora 27 Eh io resto qua E' a combattere Griglie Ah io ho un'ultima griglia da mettere E poi ritorno di là Guarda arriva gente Ok via Io devo andare via da qui Altrimenti ci ne arrivano troppi Noi siete messi lì Però ora siamo messi bene Allora vengo lì Mo' arrivano Mo' arrivano Madonna quanti Noi siete messi lì Buti A 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 Sì! Tu vuoi più! Wow! Madonna, c'è volato! Che gli smessi E gli sono tanti Ah, devo disfettarmi! Stupido virus Oh! Bene! Non hanno mai attaccato! Veramente! Non hai tanto tempo! E' elettrico grid ready to ride! Anche lì per qua Oh! E ci devi mettere il muro di qua Io ho solo 91 Eh, io metto un muro Vai! Ma quel muro hai messo Vabbè Metto anche quello di là Oh no! Cavolo! Non c'è No, non c'è No, non c'è Ehm! 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 cazzo il muro per andare a salvare quel coglione vai vai mettilo mettilo ce lo fai devono appena arrivare oh no merda 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 l'altro c'è un bomba rodo eh vabbè però ho finito ho già finito il lancio a fiamme mi sa che sono andato un po' di qua devo andare qua anche io no ma ne sono arrivati tanti adesso no 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 Merda, 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 merda Devo disinfettare Vabbè sto virus L'abbiamo passata Ma perchè mi rubano sempre i borsoni, cazzo No voglio vedere qua come facciamo, non abbiamo più niente Zero griglio, qua è pieno di borsoni, eh Riccardo Qua ce ne sono tre Due, sorry Pieno Cazzo tutte le gridi qua sono giù Eh già Eh ci conviene spostarci di là Perché è hito Guarda io posso mettere una griglia Niente di più Merda Dov'era Fa che mi trasformo stavolta Oh, che cura Oh, che cura Oh, che ricardo Oh, che problema, eh Non mai scopo pure lui Arrivano qua, al sinistro Maledetto Niente di più 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 Uff, tirati giù tutti Arriva un toro Merda, mi ha buttato giù Eh, muoio Uh, che cura Eh, ne arrivano ancora più di prima adesso Sappilo Porca troia Ehm, che cura Eh, che cura Eh, niente di più Ehm, che sopra Ehm, che sopra Molto segato a lontano Li colpisce Ehm, che cura Ehm, che cura Ehm, che cura Ehm, che cura arrivo merda noi dall'altra parte ah ok oddio muori ordigno da sfondamento vai valo a prendere adesso è stato bello beh orda 24 dai madonna salvato no per un pelo vabbè saremmo eravamo senza armi tipo spara granate eh ma saremmo morti subito dopo beh dai ha ucciso più zombie di noi ah si ma perchè lui esce a livello 64 e noi 11, 22, 12 perchè io ho 11 ah forse sono le ultime due cifre in realtà sono 111 tu sei 222 beh ma comunque ho fatto più adiccio